Il programma della manifestazione è sabato 28, dalle 14 facciamo una rassegna canina, perciò sono invitati tutti i nostri clienti e non con i loro beniamini, e poi la domenica Natura in Festa dedicata agli animali, di cui faremo una rassegna con gli asinelli montati a pelo, una rassegna con i cavalli, degli spettacoli con i cavalli, dei falchi in volo con un falconiere e dei pappagalli in volo libero. E con questo il programma è indirizzato ai bambini, ai grandi, a tutti? Il programma è indirizzato a tutti, soprattutto ai piccoli, ma a tante, alle famiglie, alle mamme, ai papà, a tutti. Ecco, non si tratta semplicemente di vedere gli animali come in un piccolo zoo, si tratta di invece conoscerli, imparare le loro abitudini, le loro peculiarità? Sì, effettivamente la nostra festa che si chiama Natura in Festa è stata fatta apposta per poter interagire con gli animali stessi, perciò i bambini possono montare a cavallo, possono interagire con gli stessi, possono vedere da vicino i falchi che volano e non i soliti animali chiusi nelle gabbie come di solito si vede. Ecco, conoscenza e rispetto quindi? Conoscenza e soprattutto rispetto per gli animali. Ecco, conoscenza e rispetto per gli animali.